Ciao a tutti, sono Spiegelamortato e benvenuti a un nuovo video qui sul mio canale. Come vedete siamo su Techcraft, ho fatto delle modifiche, infatti come noterete ho allargato casa. Ancora è piccola naturalmente perché abbiamo appena iniziato, però comunque sono andato avanti. Quindi questo è fighissimo perché come vi ricordate dalla scorsa puntata abbiamo avuto dei problemi con la turtle che non è più come prima. Non funziona più come prima perciò non possiamo più utilizzarla con un piccone di ferro, insomma con un piccone di materiale diverso dal diamante. Quindi saremo costretti a trovare il diamante per creare una turtle. Ma a questo punto ho pensato, ma chi se ne frega, lo faccio a mano per adesso, poi magari più avanti, non lo so, se mi servirà appena avrò dei diamanti la farò. Quindi cosa ho pensato di fare? Allora, mi sono allargato casa così, ora ho cercato dei blocchi, ho deciso che voglio iniziare a pensare all'estetica della casa. E ho cercato dei blocchi che potevano essere interessanti per fare la parte esterna della casa, aspettate che vanno a dormire. Oggi sta allargando particolarmente, non so perché, però purtroppo non posso registrare dopo, non so neanche che ore siano, sicuramente è tardi comunque. Sì, sono alle 11, sono anche un po' stanco, sinceramente è un merda. Mi sa che mi faccio una spada di qualche materiale strambo, ma figo. Ehm, scusate se ho la voce un pochino giù di tono, ma sono leggermente mezzo addormentato, quindi... Ehm... Come... Così... Smettila di laggare! Ah ok, sono morti da soli. Allora, quello che avevo intenzione di fare? Allora, come vedete qua, vi ho fatto questa forma, che però non è proprio quella finale che vorrei ottenere. Ehm, quella finale che vorrei ottenere sarebbe, ehm, un pochino diversa. Allora, adesso, mentre lo faccio ve lo spiego. Allora, si tratta di una cosa abbastanza semplice, diciamo. Ehm, però interessante. Ehm, si tratta di, dei, degli archi che diventano sempre più larghi. Cioè, un arco qui, poi un arco qui, e un arco qui, che diventa sempre più largo, sino ad arrivare a, facciamo tre archi, insomma. Ehm, perché può essere interessante? Perché utilizzeremo come materiale, ehm, il query, la Queryed Stone. Però, non la Queryed Stone normale, bensì, ehm, una versione, ehm, customizzata, diciamo. Adesso non so ancora quale, dovrebbe esserci anche la, mh, quella Cisel. Se non erro. Ehm, come si chiama? Allora, come si, come si scrive? Ciseled? Sì. Ciseled. Queryed Stone. No. Ehm, perché, ecco là, è vero? No. Qua, Ried. No, non c'è la Ciseled, però, ci sono diversi tipi di, di, di Queryed Stone. Sono come la, come la stone normale. Ehm, allora, Queryed Stone. Ehm, quella che volevo utilizzare io sarebbe, allora, sarebbe. Ah, non questa, ma, o forse è questa. Eh sì, forse è questa. Ho della, sì, proviamo. Allora. Non era così? Non era così. Allora, 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 allora. Sì, dovrebbe essere questa. Si fa. Andiamo a cuocerla. Ma che palle. Allora, a questo punto faccio i brick. Come si fanno i brick? Con il Queryed Block. Come si fa il Queryed Block? Cuocendola. Ma che palle. Ehm, invece per fare quegli altri blocchi strambi. Dove sono questi? Otto. Mamma mia, però, quanto è costoso. Vabbè. Allora. Ehm, mettiamo a cuocere questa santissima Queryed Stone. Prendiamo, prendiamo del Coal. Olle. Mettiamo subito. Cazzo. Dove, dove è andata a finire? Olle. Ehm, scusatemi, ma la puntata di oggi non durerà come le puntate precedenti 25 minuti. Ma durerà, tipo, guardate, massimo, 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 massimo. Cioè, proprio, facciamo così, 15 minuti giusti perché non ho proprio nel tempo materiale e nella voglia di stare qui ancora per molto. Perché sono stanchissimo, ho fatto tardi e di questo me ne scuso, però non posso farci niente. L'ora è quella che è. Ehm, vabbè, a questo punto fermo un attimo il video, ci vediamo frappè. Ehm, vabbè, non ne accorto ancora tutto. Oddio, sta laggando come un maiale. Non ne accorto ancora tutte, però, mh, non fa niente. Tanto vi voglio soltanto mostrare come dovrà uscire poi alla fine. Ehm, allora, vediamo un po'. Sì, questo blocco potrebbe piacermi. Ehm, forse non è proprio quello che avevo scelto, però non fa niente. Non mi ricordo come si chiama. Perciò ci accontentiamo. Allora, dobbiamo modificare un pochino la struttura che si è creata qui. Ehm, allora, come vi ho detto, l'idea è quella di fare degli archi. Ehm, i cui angoli non saranno dello stesso blocco, ma saranno di qualche tipo di blocco diverso. Ehm, giusto per differenziare un pochino. Ok. Ehm, non so se ci basteranno questi blocchi, però, ehm, in ogni caso questa cosa la sto facendo adesso giusto per farvi vedere un pochino come deve uscire. E per chiedervi se vi piace. Se non vi piace, troverò un altro modo. Ehm, per adesso è questa l'idea. Sì, lo so, un pochino, un pochino sempliciotta, diciamo. Però è quello che passa in convento. Però adesso non abbiamo molti blocchi. Molte, molte, molta scelta, insomma. Ehm, quindi, questo è quello che uscirà più o meno. Ehm, naturalmente dovete immaginarlo più figo, insomma, con i blocchi negli angoli diversi, insomma. Ehm, appena abbiamo otto blocchi, ma questi non ci basteranno mai, appena abbiamo otto blocchi ve lo mostro. Ehm, magari sostituirò, magari scavo qui e sostituisco tutti questi blocchi con della terra. Ehm, così, così posso finire tutto il progetto, tutto il progetto dell'entrata, dell'estetica esterna. Ehm, insomma, questo è il progetto che voglio fare. Cioè, questo è l'entrata magistrale che voglio creare. Ora, passiamo ad un'altra cosa. Come avrete notato, abbiamo bisogno assoluto di materiali. Ehm, avevamo trovato una caverna abbastanza figa. Quindi mi sa che oggi, eh, ci faremo un po' un giro in questa, in questa caverna. Ehm, che abbiamo trovato nella scorsa puntata. Ehm, che era anche abbastanza grossa e poi c'era un canyon, se non sbaglio. Ehm, quindi niente, aspettate che chiudo la porta, che è meglio. Poi, entrata caverna. Ehm, è anche abbastanza vicino a casa, quindi, oddio lagga. Ehm, quindi non dovremo avere problemi di mob quando usciamo. Ah no, vabbè, c'è il teletrasporto in ogni caso. Buco infernale, è qua giù. Scendiamo, scendiamo, scendiamo. Ehm, ah, abbiamo, abbiamo, hanno il marble questo. Dove è finito il buco infernale? Scusate, eccomi qua. Allora, c'è qualche cambiamento. Infatti oggi è esattamente il giorno dopo. Ehm, infatti, alla fine non sono riuscito a registrare completamente la puntata. Perché, sinceramente, non avevo più voglia. Ero stanco morto. Ehm, c'è una buona notizia. Infatti, eh, forse sono riuscito a trovare il problema. Ehm, che non mi, che mi, che mi bloccava. Cioè, che non mi permetteva di utilizzare action. Ehm, quindi dalla prossima puntata magari riuscirò ad utilizzare quelle. Quindi non laggerò più. Ehm, in realtà, sto già laggando un po' meno. Perché ho verificato un pochino alcune impostazioni e roba del genere. Quindi un pochino l'ho ottimizzato. Ma comunque fraps si fa sentire. Aha, eccolo. Allora, adesso sto andando, come vi ricordate, nel buco infernale. Cioè, nel, come si chiama? Nel canyon che avevamo trovato nelle scorse puntate. Ehm, che si trova là in fondo. Ehm, ora, scusate che devo, mi sono dimenticato, ecco, di attivare il timer. Ehm, ok, purtroppo lo devo utilizzare perché, come sapete, Ehm, ho grossi problemi con rendering, in quanto sto usando fraps. Cioè, è un casino, fa file di millemila gigabyte. Ora, non mi ricordo esattamente dove, ma, sto andando bene. Bucco infernale, là, 37 metri, ci vado scavando. No, non ci vado scavando. Magari divento pipistrello, visto che, me l'avete detto in migliaia. Che ogni volta mi dimentico di avere questa mod. Guardate che comodità. Cioè, noi stiamo volando come in creative, praticamente. È tutto free, tutto gratis. Ehm, questa mod si chiama Morph Mod, se non sbaglio. Ehm, come avete visto, ci permette di, ehm, trasformarci negli animali che uccidiamo. In tutti, in tutti gli animali e i mob che uccidiamo. Ma, dove razzo è l'entrata della, del buco infernale? Non riesco a trovarlo. Alla fine, forse, facciamo meglio andare scavandoci. Allora, prima di andare di nuovo qui. E dare un'occhiata, allora. Buco infernale sta, sta? Lì? Ah, sì, allora, qui per forza. Allora, buco infernale. Sta più avanti. Ma come arazzo ci sono arrivato. Agia, agia, agia. Allora, buco infernale sta... Ehm... Eh no, ero più vicino da lì. Ma porca puttana. Ehm, scusatemi per questo inconveniente, ma... Aha, ma sono stanco lo stesso. No, direi di no. Cioè, sì, dico che sono stanco, ma no che non era quella l'entrata. Ehm... Purtroppo mi sto leggermente flippando. Non ci sto capendo più una mazza, insomma. E mi sto anche un po' nervosendo, perché non trovo il buco infernale. Ehm... E non... Non so come abbia fatto a entrarci l'altra volta. Vabbè. Smettiam di laggare. Grazie. Quindi ci andiamo direttamente da qui. Allora, ehm... Cosa stiamo facendo? Non mi ricordo sinceramente. Ah, sì, sì, sì. Ci servivano dei materiali. Ehm... Spero di trovare anche dei diamanti, perché... Ehm... La mia intenzione era quella di usare le tartole, perché comunque... Sì, ho scavato un pochino... Ah, ecco... Ho scavato un pochino... Come dire... A mano, manualmente, però non era quello... Che cazzo? Non era qui il canyon? Merda, non era qui il canyon? Ah, sì, 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 sì. Io cazzo... Ehm... Forse qui? No, stavo per cadere nella lava. Ah, eccoci, siamo quasi. Buco infernale. Badum. Ed eccoci qui. Allora, l'idea è quella di prendere qualsiasi minerale. Ehm... Nel frattempo vi parlerò del senso della vita. La vita è una cosa meravigliosa. Ok, basta. Ehm... Volevo parlarvi della nuova serie. Ehm... Che probabilmente inizierà... Ehm... In questa settimana stesso. Si tratta di Battlefield. Ne sono veramente fiero. Perché ancora non avevo fatto degli FPS. Ehm... Ehm... Lo inizierò non da solo, ma probabilmente in compagnia di un amico che conosco da qualche anno, ma che non ha... ma con cui non ho mai fatto video sino adesso. E poi inizierà la nuova serie di curotono che avrete conosciuto nell'ultimo vlog che ho fatto. Ehm... Nel quale tratterà delle recensioni di cellulari e in particolare di qualsiasi cosa che c'entri con la tecnologia. Ehm... E niente, aspettate un'ac... Eccomi qua, scusate. Ehm... Dicevo, sì, vi stavo parlando di una nuova serie. Delle nuove serie. Ehm... Allora, in particolare, nella serie di curotono, naturalmente in alcuni video parteciperò anch'io. Ehm... Uno dei video che stiamo... Allora, dei video li ha già registrati, ce li ho già io. Ehm... Devo soltanto editarli e caricarli. Ehm... Alcuni video saranno... Cioè, in alcuni video parteciperò anch'io. Ehm... Uno di questi sarà assolutamente quello che registreremo circa ad aprile. Perché? Perché in una data precisa? Perché in una data precisa di aprile uscirà... Ehm... 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 Usciranno dei... Del dispositivi Apple. Diversi dispositivi Apple. Che noi recensiremmo quasi in anteprima. Ehm... Direttamente da un Apple Store. Ehm... In questo video parteciperò anch'io. Anche se probabilmente farò il cameraman. Che però commenterà. Perché un cameraman abbastanza... Ehm... Rompipalle. Ehm... 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 Ho pensato che fare questi video... Ehm... Potesse rendere la serie professionale. Ehm... Ehm... In ogni caso... Ehm... La serie è abbastanza professionale. Perché abbiamo... Ehm... Come presentatore Curotondo. Che ne capisce veramente tanto di dispositivi di ogni tipo. Ehm... Praticamente quando parliamo parliamo... La maggior parte delle volte... Di... Di... Di elettronica. Quindi praticamente ne sappiamo... Ugo... Allo stesso modo. Perché ci scambiamo le idee tra di noi. Quindi... Ehm... Cioè praticamente sono sicuro che vi sto... Che... Che... Mh... Vi affiderò a... A... Delle mani esperte. Ecco. Ehm... Credo che lo sceri... La serie sarà molto apprezzata. Perché comunque sarà fatta nel migliore dei modi. E questo ve lo assicuro io. Perché come sapete sono un perfezionista. Ehm... Ehm... E niente. Non vi resta che attendere e scoprire cosa vi aspetta. Ehm... Sono sicuro che apprezzerete comunque. Allora, allora, allora. Ehm... Di cos'altro vi dovevo parlare? Innanzitutto io direi di unire questi. Così ne me ne da solo uno. Cioè non ha molto senso unirli. Però vabbè. Ehm... Ok. Ehm... Quindi, quindi, quindi. Altra roba. Vi devo dire altra roba. Ehm... Allora. La serie di FIFA sarà leggermente... Ehm... Ehm... Posticipata perché? Perché come avrete saputo. Ehm... L'Electronic Arts. Ehm... Ehm... Ha... Ha... Introdotto con una patch. Ehm... Ehm... Un... Come dire. Un aggiornamento che blocca completamente la transazione di crediti. Quindi non si potranno più comprare i crediti. Praticamente. Si dovranno solo guadagnare. Si dovranno per forza guadagnare. Ehm... Voi capirete che... Benché sia giusto. Perché tendenzialmente è giusto così. Ehm... Non giova gli youtuber. Perché gli youtuber comunque non hanno il tempo di stare a... Ehm... Farmare tra virgolette i crediti. Perciò mi servirà un pochino di tempo per... Ehm... Insomma guadagnare qualche credito. Perché non posso iniziare una serie così giocando a... A membro di Segugi. Insomma. Ehm... Per fare questo mi servirà qualche... Qualche tempo. Insomma. Ehm... E non solo. Tra una puntata e l'altra. Probabilmente mi servirà anche la del tempo. Perché comunque... Ehm... Oltre a guadagnare i crediti dovrò portare avanti la squadra. Insomma. Ci saranno delle cose per cui servirà... Ehm... Un pochino di preparazione. Per che siano di... Siano... Perché... Purchè escano dei video di qualità. Insomma. Ehm... Come cerco di fare sempre. Ehm... Poi, poi, poi. Allora. Le cose da dire. Credo di averle finite tutte. Ehm... Ne approfittate adesso perché... Se no la... L'altra mia intenzione è quella di registrare un vlog. Ma non sono nelle condizioni di farlo. Visto che sono tipo... Stanchissimo. Perché... Ultimamente... Ci stanno ammazzando a scuola. Come sapete è un periodo di merda. Quello della... Cioè... Praticamente... In questo periodo iniziano le interrogazioni. Cioè in realtà è tutto l'anno. Però... Usano la scusa... Del... Gli ultimi mesi dell'anno. Scusate. Gli ultimi mesi dell'anno in cui ci vuole molto impegno. Quindi... Ehm... Niente. Ci stanno tartassando di ogni tipo di cosa. Poi praticamente... Cioè... Ti impegni a... Ti impegni per... Per cercare di tenere... Alti voti sufficienti e tutto. E poi ti ritrovi a fare delle verifiche di punizione. Ebbene sì. Verifiche di punizione. Alle superiori ancora si fanno purtroppo. Per colpa dei compagni dementi. Questo lo devo ammettere. Essendo rappresentanti di classe... Scusate. Di classe. Fidatevi che... What the fuck? No! No! Fidatevi che... Ehm... Mi è dispiaciuto veramente. Perché comunque... Rappresentando la... Come posso rappresentare una classe? Che praticamente mi tradisce così. Nel senso... Ehm... Come dire... Mi hanno tra virgolette tradito. Perché... Non hanno... Cioè praticamente stavano facendo un bel po' di casino. Nessuno ha detto... Stato io. Mi prendo la responsabilità. Quindi è un po' una stronzata. Comunque vabbè. Questi sono problemi privati. Che non dovrei dire qua. Ma mi stavo sfogando leggermente. Quindi scusate. Ehm... Allora, allora, allora. A proposito. Sono contento. E questo lo devo dire. Sono contento che delle persone che erano veramente scettiche. Ehm... Su questa serie si siano ricredute. Cioè... Delle persone che... Odiavano Minecraft. Che odiavano tutte le serie di Minecraft esistenti al mondo. Ehm... Vedendo le mie serie. Ehm... Hanno cominciato a seguirle. E a seguire Minecraft. Sono... Ehm... Onorato di questo... Di questo complimento. Perché per me è un complimento. Ehm... Ehm... Boh, mi state motivando sempre di più. Ehm... Tra l'altro... Cioè, per esempio. Se noi prendiamo in considerazione la serie... Che stava diventando la... Praticamente la serie principale del mio canale. Hitman. Ehm... Facevo... Un bel po' di visualizzazioni. Ne facevo... Ehm... Vabbè. Un bel po' comunque. Bene. Con questa serie l'ho superata la grande. Perché? Mentre con la scorsa serie diciamo che ne facevo... 50. Con questo ne faccio anche 100. Ehm... E questa è una motivazione in più per continuare a fare questa serie. Ehm... Che mi ha sempre dato soddisfazione e continuo a darmene. Ehm... Ed è per questo che cerco di impegnarmi. E cercherò di migliorare sempre di più. Anche la qualità infatti sto cercando in tutti i modi di aggiustare quella merda di action. Perché ho bisogno assoluto di buttare questo fraps di merda. Fraps uguale merda. Ehm... Quanto è brutto essere costretto a usare questi software che sono fatti alla membro di segura. Cioè nel senso non sono... Non sono fatti male. Sono... Ehm... Come dire... Troppo... Pesanti ma neanche. Cioè proprio... Merdosi va bene. Merdosi. Non parlo di fraps. Parlo in generale. E' come anche Minecraft e altri giochi. Sono ottimizzati col pen insomma. Cioè parliamone. Vabbè che è fatto in Java però... Io... Io credo che ci sia un metodo per... Cioè potevano usare qualcos'altro no? Non esiste un gioco... Cioè praticamente... Io col mio computer potrei giocare... Cioè posso giocare... A... 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 Qualsiasi gioco in full hd senza problemi. Senza nessun tipo di lag. Poi apro minecraft e mi fa... 300 fps. Ok non è lag assolutamente. Cioè lag parte da... Fai 30 fps ok. Ma io dico... Cacchio. Se con... Con battlefield... In full hd faccio... Un sacco di fps. E battlefield full hd insomma ne ha di... Di dettagli. Di roba da caricare. Ecco. Qualsiasi battlefield... Cioè gli ultimi battlefield... Mettiamo il caso di quelli. Per esempio io gioco a battlefield... 3... 4... Anzi 4 non ce l'ho ancora. Però lo devo comprare. Oddio sto pensando... Tira... Ehm... 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 Va bene. Vi ho abbastanza rotto le palle con le mie chiacchiere. Il tempo è terminato. Io sono Spiegarantotto. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, scrivetevi, condividete. Vi trovate sempre su Twitter, Google Plus o sul mio sito spiegarantotto.ml. O su Facebook, digitando Facebook.com slash SpiegarantottoOfficial. Io sono Spiegarantotto. Ciao a tutti. Ci vediamo nel prossimo video di... Spiegarantotto. Eh... Di texaf. Scusate. Haha la stanchezza. Ciao.